Ok ragazzi come state? Prima del video ho due importanti comunicazioni di servizio da darvi. La prima è che ho creato un secondo canale, non sarà attivo, non posterò video ma sarà di riserva e vi chiedo quindi di iscrivervi così se dovesse succedere qualcosa al principale non dovrò ripartire da zero e sarà il primo link in descrizione, quindi grazie a tutti coloro che si iscriveranno. La seconda cosa è che ho finalmente creato il server Discord e sarà il secondo link in descrizione. Ho messo anche un canale per giocare insieme a Warzone o in futuro anche altri giochi, quindi vi aspetto e siete tutti benvenuti. E detto questo passiamo al video vero e proprio. Quello di cui parleremo oggi, che avrete già visto dal titolo, in realtà non è nulla di nuovo, di gente o pseudo attivisti che sostengono che essere grassi sia ok, ce n'è molta, ma qui la questione è un po' diversa perché queste parole non sono uscite dalla bocca, o meglio dalla tastiera, di un she, him qualsiasi ma da una dietologa. E da una persona che ha studiato e si occupa di alimentazione non ti aspetti che promuova una malattia. E nella descrizione del suo post ha scritto A volte mi sembra di dire e ridire le stesse cose, a volte di non averle dette abbastanza, non sono stufa di dirle, è parte del mio lavoro e bla bla bla. L'obesità non è una malattia, non esiste, è stata inventata di sana pianta per patologizzare i corpi grassi e giustificare la grassofobia e la cultura della dieta. Di solito a dire cose di questo tipo è un tredicenne con i capelli colorati che scrive su Twitter e a me questa gente piace vederla un po' come gli emo dei primi anni 2000 o i paninari degli anni 80 che tra l'altro su di loro ho visto un documentario su YouTube esilerante che vi consiglio. Comunque mi piace vederli così perché non credo che sia molto diversa da una stupida moda adolescenziale che una volta superata guardando indietro ci si rende conto che era completamente insensata. Comunque mi vuole informarla che ripetere continuamente una cosa non la renderà vera ma non voglio partire prevenuto quindi vediamo prima le sue argomentazioni e magari può darsi che ci convinca per davvero. Ok, già qui ammetto che sono un po' confuso, la parola con la O è scritta in un modo abbastanza particolare in un modo diverso da come l'avrei scritta io. A quanto pare l'obesità, che non è altro che una condizione medica, è diventata una parolaccia da censurare per evitare che qualcuno si offenda. Quando vedo queste cose mi rendo sempre più conto che tra qualche anno l'intero vocabolario italiano sarà censurato e considerato offensivo ma non focalizziamoci troppo su questo perché vi assicuro che ciò che stiamo per leggere è molto peggio. Non lo dico io ma tutte le persone che abbracciano il paradigma health at every size e promuovono una pratica clinica non focalizzata sul peso. Dire tutte le persone che abbracciano e il resto del loro slogan è un bellissimo modo per dire un gruppo di persone che non ha la minima idea di ciò che sta dicendo ma che si è inventato un'etichetta per apparire più autorevole. Definire l'obesità in base ad un numero scelto arbitrariamente sarebbe come dire che le persone alte più di 2 metri a 10 hanno una patologia. Oh poverina, la nostra dietologa proprio non capisce perché le persone che pesano 300 kg viene detto che sono malate ma le persone alte 2 metri a 10 no. Cercherò di spiegarglielo a mio parere sperando di non essere accusato di mansplaining. Le persone alte 2 metri a 10 non hanno scelto la loro altezza mentre le persone che pesano 300 kg fatta eccezione per una piccola minoranza che ha problematiche fisiche particolari l'ha scelto decidendo di far bussare la sua porta al fattorino di delivery 12 volte al giorno. E per quanto riguarda gli stipiti delle porte sono abbastanza alto quindi posso confermare che soprattutto sui mezzi pubblici si sta scomodi ma sai cosa? Mi adatto perché mi rendo conto che sono costruiti per le persone con una fisicità media e di sicuro non pretendo che il mondo debba adeguarsi alle mie misure a differenza di queste attiviste. E comunque dire perché alle persone obese diciamo che sono malate a quelle alte no è un po' come dire perché a quelli che si bevono un litro di vodka al giorno diciamo che sono alcolizzati ma a quelli che bevono 4 litri di acqua no beh per un motivo abbastanza semplice bere vodka fa male, bere acqua no proprio come essere obesi può portare seri problemi di salute e anche peggio mentre essere alti al massimo può portare ad un maggior rischio di scogliosi. In un altro post invece ci viene anche spiegato perché quando aumentiamo di peso dovremmo festeggiare. E wow a parte il contenuto sono davvero offeso che abbia usato il femminile da una persona così aperta e inclusiva non mi aspettavo che escludesse tutti quelli che si definiscono col pronome maschile sono sconvolto a dir poco ma la cosa più assurda è quando dice che è guarita da un disturbo alimentare e tornando a mangiare ciò che voleva e che ha smesso di andare in palestra ed ora è meno... non so esattamente come si pronunci quella parola scusate non parlo il femminista ma credo che voglia dire stressata e nelle slide dopo dice che l'aumento di peso causa molto spesso un aumento del benessere a differenza del dimagrimento che avrebbe effetti contrari. Allora non serve che vi dica io quanto è in realtà pericolosa l'obesità e che può letteralmente farti fuori. pensavo fosse una cosa scontata ma a quanto pare visto che ci ritroviamo delle dietologhe che lo negano forse non lo è. L'unica cosa sensata è che l'aumento di peso non è sempre una cosa negativa questo è vero. Per esempio io non ho mai avuto il problema dell'obesità ma ho avuto il problema opposto e per tutta la mia infanzia sono stato sotto peso sia per motivi genetici visto che sono ectomorfo ma anche perché facevo zero sport e mangiavo poco o nulla ma mi sono reso conto del problema ho iniziato ad andare in palestra a mangiare di più e meglio e i risultati non si sono fatti attendere e sono super contento di averlo fatto perché ora adoro allenarmi e mi sento molto meglio sia da un punto di vista mentale che da un punto di vista fisico. Ecco se qualcuno qualche anno fa mi avesse detto che ero perfetto così come ero probabilmente non lo avrei fatto perché in quel momento era ciò che avrei voluto sentirmi dire nessuno vuole sentirsi dire che è malato che ha bisogno di alzare il culo ed ecco perché nei commenti di questa tizia ci sono decine di persone che le fanno i complimenti e mi spiace dirlo ma la maggior parte di loro non è il tipo di ragazze che si vedono nelle copertine di Gymshark per capirci quindi in un certo senso sì aumentare il ripeso può essere ok ma non mangiando senza seguire nessuna dieta come dice nel post o senza allenarsi perché in quel caso l'aumento di peso sarebbe solo grasso e non è mai una cosa positiva. L'ultima perla che ci ha gentilmente offerto in realtà ce ne sono altre ma queste sono solo alcune che ho deciso di commentare in questo video è una storia che ora andremo a leggere volevo solo ricordare che il peso non può essere un indicatore di salute non ci sono limiti a questa affermazione mai solo guardando e pesando una persona possiamo sapere il suo stato di salute anche qui in un certo senso può avere un briciolo di verità ciò che ha detto non puoi guardare una persona anche se evidentemente obese e dire ok tu hai questa malattia fin qui sono d'accordo ma se usiamo gli studi fatti nel corso degli anni e la statistica possiamo giungere alla conclusione che una ragazza di 1,60 m che pesa 320 kg in futuro o anche ora il suo stile di vita potrebbe avere delle ripercussioni sulla sua salute è come se qualcuno dicesse che si fuma 20 pacchi di sigaretta al giorno naturalmente non puoi dire che questa persona ha un tumore polmoni solo da questa informazione ma tutti ci rendiamo conto che non sia una cosa da salutare e che sarebbe buona cosa di gli smetterla su questo non credo che nessuno avrebbe qualcosa da obiettare ma sull'obesità invece dobbiamo inventarci queste cose per evitare che qualcuno si offenda e sempre restando sull'argomento una cosa che ho notato io ma che potreste anche smentirmi perché è solo ciò che ho visto io ma a portare avanti questa idea che si può pesare quanto una balena ma essere comunque in salute sono quasi sempre ragazze io non ho mai visto un uomo farsi portavoce di questo movimento anzi con tutti gli amici maschi che ho anche se sovrappeso se salta fuori l'argomento sono i primi a farci autoironia e scherzarci ma se provi a parlare della cosa ad una ragazza che segue queste teorie ti tira fuori la legge di Keplero per spiegarti perché lei che pesa 80 kg in più del suo peso forma è in realtà più in forma di te che va in palestra 5 giorni a settimana è un BMI da essere umano e niente dai questo è tutto per il video di oggi anche perché a minuti chiude il Burger King e devo andare a comprarmi l'intero menu per poi fare un post su Instagram in cui mi lamento che gli standard della società sono irraggiungibili come sempre fatemi sapere quello che ne pensate voi sull'argomento se non l'avete già visto ho dato un occhio allo scorso video in cui ho risposto alle frasi che le donne non vogliono sentirsi dire se non l'avete già fatto iscrivetevi, mettete un mi piace e tutto il resto e direi che ci vediamo al prossimo video e direi che ci vediamo al prossimo video